Senti Loredana, posso farti salutare? Ma ci mancherebbe certo, sono tutta posta. La signora della canzone italiana? Sì, voglio salutare Ornella Vanoni! A questo punto stiamo tanto bene io e te Ornella Vanoni incontra Loredana per te, eccola qua! Io sono più pazza di te! Sì! Eccola qua, guardate che fotografia meravigliosa! Accomodatevi, accomodatevi un attimo! Allora, Loredana, Ornella, sedetevi un attimo, guarda, mettiti qua Ornella, mettiti qua che poi tanto io e te rimaniamo insieme a conversare. Questa è una canzone stupenda perché, intanto autobiografica, fortemente bella, è la cosa bella che tu ti sia perdonata. Sì, ogni tanto mi perdono. No, ti sei perdonata. Siete meravigliose insieme. Carino. Sai, Loredana, sai che davvero, eh? Il giorno dopo Sanremo Ornella mi ha detto è una canzone meravigliosa. Mi è piaciuta. Eh, ma lo è! Hai detto anche le gambe, ti ricordi? Mi hai detto... E quelle le ha sempre avute. Sì, hai detto sì, però... Questa canzone è una canzone fantastica, poteva anche vincere. Anzi, avrebbe potuto... Mi sarebbe piaciuto. Stasera ho chiesto alla tua manager. Francesca. Che chi ha vinto Sanremo? Angelina Mango. Ah! Come non mi ricordo, Angelina! Angelina. È stata sopraffatta dalla tua marea. Dalla tua marea. Senti, voi avete cose in comune anche? Non so, l'avezzi. Noi andavamo... Sì, l'avezzi. L'avezzi? Ma noi andavamo al mare insieme. Vedi, questo non lo sapevo. Dove? A Forte dei Marmi eravamo. Sì. Eravamo... Ma uno schianto eravamo insieme. E te credo. Si giravano tutti. Una volta dove eravamo, non mi ricordo più, mi dicevo, senti, mi devo fare una doccia veloce. Arriva su, si mette nella doccia e io vedo la perfezione del corpo di una femmina. Eh, beata te. Allora, no. Beata te, son me. Eh, va bene. Ti dico, e lei poi si è messo un vestitino, mi ricordo. Verdolino con due conchiglie qua. Ah, sì? Quando cantavo in alto mare? In alto mare! Con le conchiglie qua. L'ho fatto prima di Orietta Berti, devo dire. Anzi, lei ha copiato da me. No, ma lei aveva le capesante, quindi è una cosa diversa. Ma il capo l'avete, l'avete, l'avete. Ah, ma me lo vuoi fare sto reggae, sì o no? Senti, ma non l'avete mai cantato insieme? Mai. Mai cantato insieme? Dobbiamo, dobbiamo fare. Hai visto che il suo disco è stato censurato? Beh, come le fatine. Eh, certo. Ornella... Non so se farmi blu. No, no, non farti blu, tu stai così che... Senti, Ornella, hai sentito che il suo disco è stato censurato? È streaking, il primo disco? Streaking. È stato censurato, streaking, il suo primo disco. Il suo? Sì. Ma anche se bellissima era censurata, era al primo posto e non passava il radio. Perché è censurata? Perché dicevo, a letto mi dicevi sempre, e invece ho dovuto cambiare e poi mi dicevi sempre. Cioè, a letto non si poteva dire? No, non si poteva dire. Ragazzi, vanno tutti a letto perché... Tutti in piedi, allora tutti in piedi, a letto non si poteva andare, niente. Ma io ho una canzone, la gente si trova, si chiama, si trova, si bella. Allora c'è quel poveraccio che è andato col disco, qui lei dice una parola, si chiama. Si chiama, sì, sì. Ma no, ho detto che dice si chiama, di fatti l'ha rallentato, si chiama. Ma, ma. Poi, vabbè, Ornella sai che ha frequentato l'arte contemporanea italiana, Ugo Pratt, Pomodoro, Arnaldo Pomodoro. Ecco, mando un saluto al maestro Pomodoro che è nel cuore di tutti noi. Ma tu eri nella factory di Andy Warhol. Eh, io cucinavo, io sono pasta queen per Andy Warhol. Pasta queen, capito? Ho sempre stata pasta queen. Pasta queen per Andy Warhol, quindi vedi, tutte e due l'arte contemporanea, le factory, insomma, mica male. Era fantastico. E lì passavano tutti, anche Baschiat addirittura è passato. Pazzesco. È morto troppo presto. Eh, certo, certo. E poi, tu hai, adesso voglio fare cose scortesi, tu hai riposato anche per una copertina un po' tu? Per Playboy? Sì. Sì, sì. Hai sentito? Su lei? Lei? La copertina di Playboy, sì, ho fatto. Volevo chiederti una cosa. Sì. Cosa? No, come? Alla bussola, tanti anni fa, faccio, dovevo cantarvi una settimana. Sì. Allora, faccio una foto, era un grande cartellone. Sì. Nuda, calma eh. Tu? No, non nuda, cioè nudo è nudo, fino alla vita. Quindi avevo le mani così, la faccia così e la schiena nuda. E tu hai detto, ma guarda quella lì nuda, proprio tu. Proprio io? Eh, ma guarda, mi è arrivato. Ma lei è andata su Playboy? Eh, anche io. Tu? 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 Guarda che ero più giovane. No, ho capito, ma non me l'aspettavo. Cioè, non è da nel rock. È offensivo. No, scusate, ma... No, guarda, tu... Me le trovate le copertine su Inter da qualche parte? Allora, io ho fatto la regia di Playboy. Gli ho detto, io nuda non mi metto. No. Allora, io sarò sempre coperta. Sì. E però prendiamo un ragazzo nudo di schiena. Sì. E allora diventa molto sensuale la parola. Certo. E così è andata. Senti, posso salutare anche Mara Maionchi? Ti vogliono salutare tutti. Facciamo venire. Facciamo entrare Mara. Mara, io la seguo assolutamente. Com'è? Mara? Quando fa una parola, è bellissima. Eccola qua, Mara Maionchi. Ciao, bella. Stai lì, stai lì. No, poi adesso... Ma non mi lo s'ha ascoltato. Mettite là due minuti. Due minuti. Sono due minuti. Allora, intanto volevo dare le magliette anche a loro di pazza. Ce n'è... Adesso qui, sta a vedere. Una è rosa e una azzurra. Chi vuole l'azzurra? Azzurro, è troppo azzurro. No, no, no. Questa è rosa. A vedere che litigano adesso. Ce l'ha messo anche Crozza, sai? Crozza? Si, che ha rifatto Mara Venier che ci aveva messo la magliette. Si, è vero. Io lo posso fare ma non adesso perché il dorso nudo diciamo non è un bel vedere. Chi vuole la rosa e chi vuole l'azzurra? Tu scegli, signora. Ma io ho occhi chiusi. Occhi chiusi lei. Occhi chiusi è uguale, hai scelto perché mi hai lasciato l'altra, capirai, hai fatto uno sforzo. Ma cos'hai sempre? Eh? Quella è tua. No, quella... Pazza. Ce n'è un'altra. Bello, pazza. A noi va bene. Ma guarda che meraviglia. Allora. Brava per te. Senti... No, bravo il mio merchandise, io non ho fatto niente. Bravissima. Ho fatto tutto loro. Grazie, dei doni meravigliosi. Molto bella. Senti, Loredana, tu anche avevi detto cose meravigliose sulla canzone di Loredana. Sì, bellissima. Mi è piaciuta molto, lei mi è piaciuta molto e mi ha... l'avrei messa molto più in alto. Senti, tra l'altro Salerno, suo marito... Sì, lo conosco. Ha scritto... Non mi riconosce la... La classifica? Io sesta sono arrivata. Ecco, io... Ma si era sordo. Io la vedevo nelle prime trede. Ma sapete che Sanremo tanto non è quello che conta. No. Conta dopo. No, praticamente... Mi sarebbe piaciuto... Lo so, tu volevi andare all'Elovision, lo so. Vabbè. Il mio amichetto, come si chiama? Amadeus. Senti, senti... Senti, senti... E' tua mia amichetta. Senti, senti... Tutta gold. Così non si capisce, Ornella. Sinceramente, no. È sfuggita l'ultima sillaba. È un marziano, il suo amico. Mahmood. Mahmood. Eh, ma non si capiva che era Mahmood. Era sì. L'ha detto tutta gold. Adesso tutta gold, sì. Comunque, volevo dire che... Ornella è incredibile. Che Salerno... Salerno, suo marito... Salerno ha scritto cinque canzoni per Loredana. Non lo sapevo nien'chia. Te lo dico io. E quattro per Ornella. Quattro per Ornella. Come mai ne ha scritta una in meno... Sì, ora in meno. Come mai ne ha scritta una in meno per Ornella, Mara? Ma tu dormi con tuo marito, no? E certo, con chi vuoi che viva, col portinaio. Ma non col portinaio, volevo dire... Il mio portinaio, se metto quella maglia... Già che pensa... Ah, se pensa delle cose... No, dico... Perché ne ha scritta... Mara, perché ne ha scritta cinque per Loredana e quattro per Ornella? Chiedi a me, non sapevo neanche... Eh beh... Come... Si vede che l'occasione non è capitata, bella donna. Capiterà. Capiterà. Perché sarai ancora per cento anni te. Ah, ah, ah. Dicono tutti. Vedrai, ci seppellisci. Eh, beh, all'aria. All'aria. Ti capisci come sono messo? Ti capisci come sono messo? No, lo vedo tutte le domeniche. Ah, sì? Sentite cosa dice Loredana, che ci vede tutte le domeniche. Sempre. Ma torna tutte le settimane. Ma vieni con noi al tavolo sempre, ci divertiamo come dei pazzi. Facciamo un'altra volta. Sai, quando vuoi, quando vuoi. Ma guarda, è molto divertente il tavolo. Sì. Sì, lo vedo. Le avete trovate le copertine? Allora, poi così salutiamo... Abbiamo trovato le copertine... Le possiamo far vedere? Certo. Certo, come no? Gli occhi. No! Eccole qua! Bella! Tu, Mara, niente? No, a me mi mandavano a casa. Senti, Loredana era una gnocca... E' bellica, mi puoi. Erano due gnocche, devo dire la verità. Loredana aveva un fisico da far paura. Belli... Una gnocca pazzesca. Ma guarda com'è adesso, che meraviglia. No, ma è vero, è sempre... Senti, Loredana, ti voglio fare un'ultima domanda, poi congedo... Congedo. Loredana e anche Mara. Tu hai una domanda, perché per Loredana vuoi fare una domanda? No, non più di così. No, volevo sapere, dopo questi 50 anni, qual è il primo ricordo che ti viene in mente di questa tua carriera? Il primo momento? I miei inizi. Ok. Perché sono stati praticamente in teatro. Ho fatto Hair. Hair, certo. Con Bill Conti. Come no? Che mi spingeva ogni giorno alle prove, diceva, ma tu devi cantare, devi cantare, perché non fai dei... E ho fatto i primi provini con lui. E ci cacciavano dalle scasi discografiche a me e a lui, contemporaneamente, ci mandavano via proprio. Quindi è un buon segno. Come ci vedevano arrivare, no, no, questi, no, dite che siamo in ferie, non c'è nessuno qua. Senti, è vero che per tirarti su, quando sei magari un po' malinconica, ascolti l'esorcista? Sì. Perché ti fa coraggio? Mi piace. A me piacciono i film horror. Bene. Mi piacciono molto. Ma quelli belli, però. Eh sì, l'esorcista non è... A me è tutto... L'esorcista è un classico. Tu cosa ascolti per tirarti su, Orrella? Quando hai bisogno di tirarti su, cosa ascolti? Gli americani, molti americani. Molti americani. Molti americani, inglesi. Sì. Amo molto gli inglesi. E tu invece? Ma io ascolto Fratelli di... No, Fratelli d'Italia no. Fratelli di... No, così un inno nazionale. Mi piace l'opera lirica, ogni tanto l'ascolto. Mi piace. È un modo di espressione. Anche tu cosa ascolti? La nonna di Betone. 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 Ragazzi, abbiamo saputo tante cose questa sera. Adesso vi chiedo una cortesia. Veramente, non un applauso, ma proprio un abbraccio. Grande, grande. Grande, grande, grande a Loredana per te. Brava. Grazie. Ribelle. Eccolo qua il CD di Loredana.